1 milione e 800 mila euro per dare un nuovo volto alle piazze Almerici, Bufalini e Fabri. Questa è la somma di cui beneficerà il Comune di Cesena grazie al programma straordinario di interventi messo a disposizione dal Governo per la riqualificazione urbana. Nei giorni scorsi la Giunta ha approvato la manovra dal costo totale di 3 milioni e 300 mila euro che dovrebbe dare il via ai lavori nel 2019. Grazie alla somma riconosciutaci dal Governo copriremo i costi di oltre il 50% commenta il Sindaco Paolo Lucchi. Avevamo presentato la nostra candidatura già ad agosto 2016 e siamo molto soddisfatti di essere riusciti ad entrare in graduatoria. In attesa dei fondi l'amministrazione ha già stilato una prima tabella di marcia che deve fare i conti anche con i lavori che già si stanno effettuando all'interno del centro storico. La priorità da questo punto di vista è sempre Piazza della Libertà. Una volta chiuso il vecchio cantiere si procederà all'apertura di quello delle tre piazze con l'obiettivo di portare a termine i lavori entro il 2020. Il progetto è frutto di un concorso di idee portato avanti dal Comune a partire dal 2011 e che nel corso degli anni è andato progressivamente ad aggiornarsi grazie anche all'intervento di normali cittadini che hanno partecipato a una consultazione online votando a favore del mantenimento dei grandi alberi posti davanti alla biblioteca. Le tre piazze Malatestiana, Bufalini e Almerici saranno a vocazione prettamente pedonale e ciclabile arricchite da installazioni e da un sistema di fontane. I chioschi invece saranno ricollocati al fine di liberare l'accesso alla biblioteca.